Attenzione, attenzione, la signora Monica Sojkova ha dichiarato a un'altra persona che fa come vuole, di testa sua, attenzione, attenzione, lei, regina di testardaggine e di modo di fare suo personale bellissimo, dice a un'altra persona, fai come vuoi, bellissimo, dopo sei anni che ormai ci conosciamo la prima volta che non hai letto. No, non sono così. Non è vero, non sono così stronza, non è vero, è tutto inventato. No, non è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.